La primavera porta sicuramente una delle tradizioni migliori di Africa nel cuore con la promozione della vendita di uova ed altri oggetti pasquali perché c'è sempre bisogno di soldi per le vostre attività. Sì, con la primavera arriva l'iniziativa Un uovo per Rumoruti. Anche quest'anno la ripetiamo e quest'iniziativa quest'anno è importantissima perché siamo rientrati recentemente da Rumoruti e purtroppo abbiamo toccato con mano le gravi difficoltà che ci sono là. Già dal 2020, dall'anno del Covid, c'era stato un po' di problemi per l'alimentazione e tutto quanto. Poi dopo i cambiamenti climatici e la grande siccità che si è creata in questi mesi e mesi di non pioggia porta una gravissima carestia al quale sopperiamo inviando cibo soprattutto alle scuole in modo tale che i bambini possano continuare ad andare a scuola e nei villaggi alle famiglie più bisognose. C'è sicuramente una grande disparità tra il Kenya che viene conosciuto anche con le visite internazionali e quello che conoscete voi nei villaggi. Sì, il Kenya lo vedono come un paese in via di sviluppo e tutto quanto. Infatti se tu ti fermi a Nairobi, vai a Nairobi, vabbè, se vai nel soborghi e nell'eslam ti rendi conto com'è la situazione. Ma il centro città, diciamo, ha grattacieli, macchinoni, tutto quanto. Ma di mano in mano che tu ti sposti verso l'interno del Kenya, soprattutto nella regione nord-ovest, vedi proprio la difficoltà, una situazione veramente che ti colpisce allo stomaco e al cuore. Noi nei giri che abbiamo fatto quest'anno, andando nelle scuole, visitando le scuole, visitando i villaggi, ci siamo resi conto che praticamente è diventato deserto. Non c'è un ramo verde, è tutto bruciato, i fiumi sono secchi, muoiono gli animali che i pastori Samburo allevano, tipo pecore e mucche per mancanza di cibo e di acqua, muoiono gli animali della savana, giraffe, elefanti, tutto quanto. Si conta che più di 1500 animali della savana siano morti, dato le condizioni climatiche che ci sono. E' una situazione veramente grave. Oltre al problema di questa sicilità, oltre a portare la carestia e quindi mancanza di cibo, c'è anche il grave problema di questa polvere, c'è una polvere che sembra la nostra nebbia in Valpadana, che crea un sacco di malattie respiratorie. Noi stessi ci siamo ammalati tutti, durante il soggiorno che abbiamo fatto giù, ma abbiamo anche molti bambini, molti adulti ammalati, chi può essere ricoverato, ricoverato, chi può essere curato, curato, chi non può aspetta che gli passi. Quali sono state le emergenze primarie che avete visto e per le quali adesso raccogliete dei fondi? Le emergenze primarie sono sicuramente il cibo, portare il cibo, perché se noi non portiamo cibo specialmente ai bambini delle scuole, abbiamo la dispersione scolastica, cioè questi bambini starebbero a casa per andare nella savana o nella foresta, come la chiamano loro, a cercare radice per cibarsi. Quindi portando cibo abbiamo anche una frequenza regolare a scuola. Purtroppo ci siamo accordi, noi facciamo un rifornimento a 23 scuole, in 23 villaggi ciclicamente di cibo. Portiamo mais, fagioli, un grasso alimentare che loro chiamano è una specie di margarina vegetale, diciamo, sale per cucinare il piatto forte, il piatto tipico che è il ghiteri, che è questa zuppa di mais e fagioli che è altamente nutritiva, ricca di proteine e quant'altro e i bambini possono avere almeno questo pastogiorno. Questo è quello che succede nelle scuole primarie. Mentre invece per i bambini più piccoli della scuola materna portiamo la farina di miglio e un altro mix di farine, fatte apposta, anche queste molto nutritive, per preparare l'ugi, che è una specie di porridge, perché hanno un'alimentazione diversa dai più grandini e questo permette loro almeno di nutrirsi quel giorno lì. Abbiamo conosciuto e collaboriamo con un medico dell'ospedale di Rumoruti, il dottor Mumelo, che fa parte della Croce Rossa Kenya, anche oltre ad essere responsabile degli ospedali della zona di Laichippia, e lui con la Croce Rossa esse e vanno nei villaggi e testano la denutrizione dei bambini. Abbiamo in determinati villaggi, uno vicino a noi, che ci sono delle percentuali, che sono aumentate tantissimo, di bambini denutriti, al quale viene dato il plampinat per riuscire a recuperarli perché altrimenti si muore. Purtroppo ci siamo reso conto del grave problema perché portando i rifornimenti alimentari in una scuola primaria a Materi, in piena savana, proprio in un territorio impervio, i presidi della scuola hanno scaricato il cibo. Dopo alcune ore il preside si è visto arrivare le mamme e i bambini del villaggio che chiedevano da mangiare perché non avevano niente. A quel punto lì il preside non sapeva cosa fare e ha dato il cibo a tutti, ha dato un piatto di ghiteri a tutti quanti. E quindi questo ci ha anche spronato a incentivare questa distribuzione di cibo e anzi ad uscire anche nei villaggi per individuare le famiglie più bisognose, specialmente le mamme con i bambini piccoli. Come si fa ad acquistare queste uova e quindi a contribuire? L'uovo viene acquistato o prenotato, dipende, presso la nostra sede di Spezzano via telefonicamente oppure via WhatsApp, via pagina Facebook, tutto quanto. oppure siamo riusciti a organizzare alcuni banchetti che per l'esattezza saranno il 21 marzo all'ospedale di Baggiovara, il 22 e il 30 marzo all'ospedale di Sassuolo, il 19 marzo presso la chiesa di Spezzano e il 25 e il 26 al Pala UVF a Ubersetto nell'ambito di un'altra iniziativa che proponiamo per questa raccolta fondi.